città autorevole. Questo è in qualche modo collegato al tema sopra. Quello che sto per dirti ora, scommetto, mi gioco tutte e due le braccia, che è una cosa che è capitata anche a te. Pratica complicatissima, roba ovviamente, scusate, ho bevuto, da perdere il sonno che capita a tutti. Sette redi, città del mondo diverse, alcuni dalla Germania, eccetera, incazzati tra di loro, documenti incasinati, quarto piano senza ascensore, attaccata alla ferrovia, poteva comprarlo solo uno al casello. Insomma, un delirio, dai, avete già capito. Immobile vendita da due anni, succede che, per magia, riusciamo a venderla. Ho cercato veramente di servire questa gente al meglio. Siccome dovevo prendere un aereo, e alcuni venivano dalla Germania, ho guardato i documenti per filo e per segno cento volte, sono stato lì fino alle undici di sera, perché, insomma, volevo avere la tranquillità che arrivassero, prendessero un aereo, e, insomma, non si tornasse a casa perché c'era qualcosa che non tornava. Avrò fatto dieci sopralluoghi, geometra, redattore, impiantista, pavimentista, certificazione degli impianti, banca, tutto. Tra l'altra cosa era l'anno in cui a Bologna ci è venuto un metro di neve, quindi una roba assurda. Cosa ne ho ricavato? Alla fine di tutto mi hanno trattato a pesce in faccia, come se fossi uno schiavo o un venditore da strapazzo dove era tutto dovuto. Avevano sempre il meglio da fare ogni volta che dovevo mandare il mio documento. Quando abbiamo fatto il compromesso gli ho dovuto correre dietro mesi per farmi dicabare. Credo che uno dei sette solo mi abbia detto, Simone, grazie. E nonostante tutti questi sforzi non avevano alcun rispetto per me. Ma, oltre danno la beffa, non avevo ancora visto niente. Quando si sono trovati davanti al notaio sono diventati irriconoscibili. Sembrava che avessero di fronte ai loro occhi una figura sopranaturale. Lo veneravano, mostravano veramente qualcosa al limite dell'imbarazzante. E in cuor mio me lo diceva, ma questo non aveva fatto niente per aiutarli. Si alimentava sì a controllare i documenti, leggere velocemente qualche pagina e mettere un paio di firme. Ma il lavoro sporco l'avevo fatto io. Ma sembrava realmente non importare assolutamente a nessuno. Ditemi ragazzi se è una cosa che capita solo a me. O è una cosa comunque che è capitata anche a voi? No, mi fa piacere perché tante volte mi dico che queste sono situazioni che sei sfortunato. Per cui siete d'accordo con me che non c'è nessuna percezione di valore nei nostri confronti. E invece in confronto di altre persone che hanno quel titolo cambia tutto. L'illustrissimo signor notaio per loro era un dio ed erano disposti a pagare cifre esorbitanti in cambio di nulla. Tante cose hanno dovuto fare una consulenza per una divisione ed erano stati anche felici e onorati di staccare l'assegno. Ai miei occhi era una cosa terribile e giurai a me stesso che avrei scoperto il motivo dietro questo comportamento. Da allora sono passati anni che ho trascorso a studiare, analizzare questo meccanismo mentale scoprendo il potere dell'autorità. Tutto quello che ruota intorno a quella percezione, quella venerazione è il potere dell'autorità ragazzi. Quello è stato uno dei momenti in cui mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che doveva cambiare qualcosa, che avrei studiato, che ci sarei comunque arrivato in fondo ad ogni costo. E quello che ho scoperto è che nulla è più importante del potere di poter prescrivere un'azione alle persone. E questo ha a che fare col concetto dell'autorità. Ve lo spiego con un esempio molto semplice per farvi capire la potenza di questo concetto. Facciamo finta che tu oggi stia male, senti di avere la febbre, stai sudando e senti una fitta al cuore. A questo punto salti in auto a tutta velocità ed entri in una piccola ospedale, una piccola clinica un po' vecchiotto, un po' faticente in provincia della tua città. Facciamo finta che sia questa. Entri dal medico, nel pronto soccorso, in questo piccolo ospedale immerso nella debbia, ti visita tre minuti, ti guarda e ti dice Guardi signor Bianchi, lei ha un grosso problema, si è chiusa un'arteria. Ora, andiamo subito qui di dietro, tenga questo strofinaccio, lo tenga in bocca per stringere i denti del dolorio, prenderò un bisturi, arriverò alla vena e cercherò di sistemarlo. Quale sarebbe la tua reazione? Aspetti un attimo, vorrei pensarci su, vorrei aspettare un secondo parere, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, non corresti subito a farti operare, ma immagina un altro scenario. Tu ti senti male, senti la febbre, hai una fitta al cuore, e invece però che in quella clinica fattiscente ti portino in Svizzera, in una clinica all'avanguardia, specializzata, famosa, specializzata su patologie del cuore, si sono operati, vedi nella bacheca, le foto di Nelson Mandela, Trump, Obama e Ronaldo, il calciatore, e lì ti accoglie e ti visita il più grande cardiochirurgo al mondo, che, guardandolo bene, lo riconosci, perché l'hai visto anche in tv, ospite del TG5. Arriva, ti visita e ti dice, guardi, la vena è chiusa il 90%, dobbiamo andare in sala operatoria e dobbiamo operare entro un'ora da adesso. Ecco qui cosa cambia, che 9 persone su 10 darebbero subito l'ok. Cosa fa la differenza? L'autorità, ragazzi. Tu non sai se effettivamente questo medico è migliore di quell'altro, lo desumi, perché in una clinica svizzera questo medico è stato in tv, in quell'ospedale ci sono andate superstar, eccetera, e se pensi questo, se la percezione che hai è quella, lui ha il potere di prescriverti un'azione. Non di darti consigli, di dire cosa fare. Ora, vado su un tema molto caldo, che so che farà male a qualcuno. Partiamo da questa domanda. Qual è la persona, il soggetto, che è percepito nella scala, nella piramide sociale a livello più basso, parlo di business, eccetera, purtroppo sì, il venditore. Ed è il motivo per cui noi non dobbiamo essere recepiti come venditori. La prima cosa che dico quando le persone vengono in sessione privata da me, in ufficio, corsisti, coaching, eccetera, è di non parlare, di non agire, di non essere percepito come l'ennesimo venditore, che ti parla in termini di chiudere un contratto, negoziare, transazione, sopralluogo. Le persone ormai sanno riconoscere un venditore e le allontanano in maniera automatica. Hai presente quando entri in un negozio di scarpe, appena entri, brum, ti assale la commessa e ti dice ha bisogno? Qual è la risposta del 99% delle persone? Cosa risponderesti tu? No, non solo un'occhiata. Bruciata la vendita. E questa è una cosa inconscia, ragazzi. Fa parte del nostro cervello primordiale, si chiama cervello rettiliano. Non farò certamente un webinar su questa roba qui, ma è un qualcosa di automatico. Vai sulla disfensiva, ok? Non puoi decidere questa roba qui. È così. È quello che nel corso dei milioni di anni di evoluzione ha fatto sì che noi, quando percepivamo un pericolo, x migliaia di anni fa, da una tigre d'intasciabola, o di un altro, 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 di un altro. È impossibile salvarci. Questo è. Questo ti brucia l'affare. Quali sono i tratti, allora, dei venditori che alzano le barriere ai clienti? Guardiamoli velocemente. Script anni 70, pronunciati con un sorriso falso, è totalmente innaturale una conversazione. Le brochure di vendita, ragazzi. Ok? Bruciale. Vi do un consiglio. Avete già fatto più uno da questo webinar. Brucia tutte le brochure. La possibilità di essere reperibili 24 ore al giorno sul cellulare, ed essere facilmente accessibili. Ascoltatemi un concetto altamente controintuitivo. Più facilmente siete accessibili, più mostrate la smile ad incontrare il cliente, più è probabile che creerete l'effetto opposto. Perché darete la percezione di non avere uno straccio di cliente che il cliente traduce in disperazione. E questo ti mette in una situazione, in uno status che è nettamente inferiore rispetto a quello del tuo prospect, del tuo cliente che deve vendere, e quindi in una posizione di svantaggio. Altra cosa che fanno i venditori è che si presentano a casa della persona e non sanno nulla di lui. Tutte le presentazioni sono uguali, sorriso finto, soliti argomenti sul meteo, il tempo, i cani, i gatti, e andiamo a fare schifo a quella presentazione, perché la verità è quella, e l'ho fatta anche per tanti anni, quindi non mi nascondo. Le autorità professionali non fanno, non hanno questa roba qui. Più è l'aspetto del venditore, più si riduce a zero la tua autorità. Questo bisogna che te lo ricordi. La gente non si fida dei venditori, la gente non si affida ai venditori. Ok? Questo è il primo passo su cosa non fare. Spesso mi chiedono, ma come mai, come hai fatto a fare 113 transazioni nel 2020, avere una società di formazione con centinaia di studenti e fare 3-4 viaggi all'anno? Ve lo spiego velocemente. ti svelo come svolgo il mio lavoro e inoltre te lo svelo nel dettaglio, come ho fatto appunto in questi anni a fare questo numero di incarichi e di transazioni. Allora, parto dal presupposto, il 100% degli incarichi presi e le persone con cui ho avuto a che fare come clienti facevano già parte del mio mondo. Possiamo chiamarlo del mio ecosistema. Che significa questo? Potrebbe essere un lettore di qualcosa che io pubblico in Costanza Offline oppure attraverso dei contenuti online specifici per il mio target che ho creato in questi anni. Questa per esempio è la rivista che noi facciamo piuttosto che delle pubblicità carine. Oppure sono stato invitato a fare delle ospitate, delle interviste da persone abbastanza conosciute. Io ho fatto questa intervista con Gatti io non so quante centinaia di migliaia di euro mi ha dato perché ovviamente lui ha una community con un target di investitori immobiliari quindi per me era perfetto. Oppure magari anche qualche personaggio famoso questa la conoscete tutti. Ciao Simone ti faccio questo video per congratularmi con te per i risultati che hai ottenuto in questi anni per tutto quello che hai fatto che fai e che farai in futuro per tutte le persone che nella vita prima o poi come me come tutti avranno la necessità di cambiare casa. Simone Rossi per me sei il numero uno number one. oppure gente insomma conosciuta che ho avuto che farci per lavoro e di conseguenza ho avuto la fortuna di insomma che creasse come ti dicevo prima anche una storia da aperitivo insomma l'agente immobiliare che ha trattato seguito l'arcuri. Ok? in ogni caso nel momento in cui hanno a che fare con me ho già acquistato un certo grado di autorevalezza ai suoi occhi prima di incontrarci ho già fatto valere la mia fama prima di parlargli ok? quindi ho assunto una certa credibilità e queste caselle prima ancora di vederlo prima ancora dell'incarico sono già state sbarrate e questo ragazzi è fondamentale ok? poi deve sottoporsi a una certa procedura prima di parlarmi non puoi chiamarmi dritto al cellulare un po' perché non c'è ok? tu prova a fissare una visita e parlare direttamente col primario dell'ospedale o con un avvocato molto riconosciuto concordate con me che è impossibile? semplicemente perché il primario e l'avvocato non rispondono loro non ha il loro cellulare perché sono persone molto impegnate come tutti i grandi professionisti e allora perché i grandi agenti immobiliari non dovrebbero esserlo? chiedo eh? devi successivamente passare attraverso un processo studiato perfettamente devi lasciarmi i tuoi dati le caratteristiche della casa e infine la mia assistente vede da tutta questa roba qui le chiamate le mail che arrivano ci dà un'occhiata e mi dice guarda Simone penso che ne valga la pena chiamarlo a quel punto io prendo il mio bel telefono la contatto o lo contatto e quando la chiamo gli farò una serie di domande sono molto approfondite e per capire se so in cuor mio di posso aiutarlo o no ok? non fate l'errore di prendere la roba che sapete già che non riuscite ad arrivarci in fondo a questo punto il cliente mi descrive il suo progetto di vendita e una volta che io ho compreso la sua reale motivazione gli farò capire in maniera educata ma autorevole che io non lavoro con tutti ok? per cui un concetto di esclusività se sì in base a quello che mi ha raccontato prima dell'appuntamento invio una relazione a casa per posta cartaccia dove c'è valutazione della casa e c'è le case vendute di vicino c'è l'incarico precompilato la mediazione c'è tutto ok? e la regola è che bisogna che lo leggi prima che venga da te quindi la regola è che ci sono delle regole e il cliente deve superare questo ostacolo ok? e quello che avete potuto vedere in 12 secondi è che le regole normali di tutti gli agenti immobiliari della maggior parte degli agenti immobiliari vengono totalmente invertite ora il 99% degli agenti immobiliari ad eccezione dei miei studenti cosa farebbero alla prima chiamata? appena chiama il cliente boh correrebbero da lui ok? con l'estinto di chiudere l'incarico io non faccio così ok? perché ho visto che è meglio non fare così non perché sia pazzo io non ho fatto 103 gestazioni facendo come fanno tutti io non ho fatto dei mesi da più di 100.000 euro perché così facevano tutti ok? la mia autorità e la mia capacità di prescrivere un'azione il giorno che poi vado da lui sono cresciute con tutti i passaggi che ti ho brevemente riassunto se avessi voluto far decidere a lui parlo del cliente come avrebbe preferito agire? non avrebbe voluto lasciarmi i suoi dati ma parlare direttamente al cellulare con me ma non l'ha potuto fare si sarebbe aspettato che io corressi da lui per fare questo affare ma non l'ho fatto avrebbe voluto di raccontare evitare di raccontarmi in un'intervista al telefono le varie cose ma l'ha fatto non avrebbe voluto leggere obbligatoriamente il pacchetto informativo ma l'ha fatto ma ogni gradino ragazzi ascoltatemi bene che gli ho imposto di fare per accedere a me ai miei servizi ha fatto aumentare la mia autorità tutto questo che ti ho raccontato è possibile per il fatto che quelle caselle sono già state barrate e questa è in parte la strategia per diventare autorevole quando sarai poi a casa sua finalmente lì non hai concorrenti ok? non ce l'hai la forza il cliente ti vede in modo e maniera che tu hai la possibilità di prescrivere la soluzione che è conferirti l'incarico ok? vi do un'indicazione il tasso di conversione tra presentazione che faccio e incarico è l'85% quel 15 ci sarà un 5% che sto sulle palle e non fa niente per l'amor del cielo ma un altro 10 sono quei pochi clienti con cui io non voglio lavorare questo mi permette di farti pagare le commissioni piene parlo a me anche ai miei studenti senza dover concedere il tutto cliente o star lì a subire un sacco di insomma le sapete questa roba qui ok? spiegare la correttezza dei miei consigli con risposte o sentire i secondo me ok? la percezione è che lui ha catturato la preda questo è nella testa dei clienti la preda sei tu per la prima volta sei tu il miglior agente della città e che ha portato a casa il miglior investimento per vendere la sua casa che è il miglior agente immobiliare ok? la maggior parte degli agenti non capiscono questo aspetto però oggi possiamo cambiare il modo di fare le cose e di lavorare come un grande professionista ti chiedo una cortesia prendi carta e penna e scriviti questa cosa che è importantissimo il dilettante fa proposte e offre scelte ai clienti il professionista fissa delle regole e prescrive azioni ragazzi importantissimo prescrive azioni senza incontrare resistenza ora quello che ti ho raccontato in questo punto potrebbe far paura a molti e magari si dicono giustamente ah ma tu sei Simone Rossi per te è più facile tu sei nato per tutto questo bla 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 allora ora dimmi tu se sono nato per tutto questo 10 settembre 2013 questa è da Monte dei Paschi quindi stiamo parlando di un po' di anni fa ok? semplicemente mi chiede di rientrare dal filo ed è per settembre 2013 il momento in cui ho dovuto ai tempi affrontare una cruda realtà perché al 13 settembre 2013 io dall'inizio dell'anno avevo fatto la bellezza di zero transazioni ma soprattutto avevo bruciato 90.000 euro di cassa aziendale e ogni mattina ogni giorno quando mi alzavo sentivo nello stomaco avete presente i pugni di Hulk quelli che sono qui nell'immagine quelle verdi giocattolo che ruotavano nello stomaco H24 sette giorni su sette uno di quei periodi che non mi dimenticherò mai che prima o poi tutti ci passiamo che non va bene nelle cose private nelle cose lavorative eccetera e sono quei periodi in cui veramente sei totalmente a terra quello è il vecchio ufficio dove è successo quella situazione lì qua sono io qualche anno dopo a vederlo io ho quei due gradini lì davanti ora c'è un comproro me le ricordo molto bene perché lì la sera quando chiudevo la seranda mi mettevo a sedere perché avevo paura di tornare a casa in realtà non era la paura di tornare a casa ma la paura di tornare a casa è che mi facessero una domanda specifica come è andata oggi non ero solo non c'era solo il mio destino in ballo e c'è stato un giorno in cui veramente quel 13 settembre ho toccato il fondo o meglio sono stato costretto a fare click ed è stato in quel momento che ho letto una frase molto importante che a me ha impattato tanto quando il perché è forte il come non è mai un problema stava nascendo la mia seconda bimba questo sfrugolotto qui ok e se uno è un genitore sa benissimo che non c'è niente di più importante motivazionale di capire e saper di poter dare un futuro ai tuoi figli e lì mi sono un po' rimboccato le maniche ho fatto cose che non avrei mai fatto ok e se mi avessero detto in quel preciso momento che la mia carriera avrebbe avuto un incremento di quel tipo avrei firmato con ogni goccia di sangue possibile la mia evoluzione come agente immobiliare è stata la seguente nel 2014 ho fatto 90.000 euro di fatturato nel 2016 205.000 nel 2020 653.000 euro qualche riconoscimento primo agente insomma quindi ragazzi il sunto di tutto questo è che io non sono un illuminato del cielo sono passato con 60 centesimi alle superiori quindi però prima di diventare Simone Rossi quel click di cui vi ho parlato è che ho cominciato a ragionare come Simone Rossi ho capito che si poteva fare migliorare le cose andando a prendere le informazioni di chi le aveva già prese e che aveva già ottenuto i risultati che volevo ottenere io per diventare sempre più forte essere più veloce rispetto agli altri la concorrenza e questa roba era un'informazione che qui io non trovavo facilmente quindi sono dovuto andare in tempo in USA Canada Portogallo e andando anche a spazzare in settori che non sono propriamente il nostro ma che sono molto più avanzati del nostro e sapete qual è l'errore che se potessi tornare indietro pagherei oro per non commettere per tanti anni ho sempre pensato che dietro una persona di successo ci fosse stata una bugia qualcosa di falso che non fosse vero il suo successo e facendo poi sono andato anche dallo psicologo così ve lo dico tutti ok sapete perché avevo quella presunzione lì? perché non si ammette a se stessi di avere di fronte qualcuno che sta ottenendo risultati migliori di noi chi ha informazioni maggiori chi ha informazioni migliori rispetto alle nostre ha un vantaggio competitivo il mio grande rimpianto è che se avessi cominciato non nel 2013 a formarmi in maniera seria ma dal 1999 quando sono entrato in punta di tacco nel settore immobiliare oggi avrei accumulato dieci volte tanto comprare le informazioni da chi ha quelle giuste è il miglior modo per non bruciare una risorsa che nessuno ti dà indietro e che una volta passata ti fa vedere di rimpianti che è il tuo tempo studiando gli atteggiamenti dei migliori agenti al mondo che ho avuto il piacere di conoscere ok l'1% degli agenti aveva il 90% del mercato della loro città e questi avevano un pattern in comune investivano tanto tempo tante risorse in formazione da quel punto ho cominciato anch'io questa è una mentorship da 10.000 euro l'ora questa è un'altra consulenza l'ho fatta anche a febbraio recentemente da 3.500 euro l'ora in 4 anni ragazzi ho investito qualcosa come 200.000 euro in formazione e il primo semestre di quel famoso 2013 l'ho fatto con un pochino ok anche se non navigavo nell'oro come hai potuto ampiamente constatare per non spercare al tuo tempo prezioso di questo webinar su questo punto e immagino che abbiate capito tutto ora entriamo in un altro argomento molto hot ma ricapattualiamo al volo abbiamo visto che nulla è più importante del potere di prescrivere un'azione e questo ha a che fare con il concetto dell'autorità non dobbiamo essere catalogati come venditori sarebbe un errore la gente non si fida dei venditori e non si affida ai venditori essere facilmente accessibili H24 7 su 7 da la percezione di disperazione acquisire informazioni verificate non da fuffa guru da chi ha già ottenuto i risultati che vogliamo e il miglior investimento su noi stessi grazie a tutti grazie a tutti